Presidente, una volta emigrati oggi i siciliani possono ambire a conquistare il mercato tedesco? Sicuramente, con la forza della qualità dei nostri prodotti, le nostre aziende per superare questa crisi profonda in cui versa il sistema Paese Italia chiaramente rivolgono la propria attenzione verso l'internazionalizzazione. Abbiamo le carte in regola, veramente le carte in regola, per poter ottenere dei risultati di grande soddisfazione. Ecco, noi come Camera di Commercio portiamo qui oggi, l'abbiamo fatto ieri a Cammarata o l'abbiamo fatto il mese scorso ad Agrigento i referenti della Camera di Commercio italiana in Germania. È importante un mercato di 86 milioni di abitanti e sicuramente con grandissima ricchezza. Grande spazio in quel mercato, grande qualità dei nostri prodotti. L'imprenditore non può venire intimidito da quel sorrisetto della Merkel? Assolutamente, noi non temiamo sorrisi da alcuno, noi abbiamo la forza e la qualità dei nostri prodotti. Sorrideranno peraltro, non sicuramente rispetto agli italiani che sono sempre stati, siciliani in particolare, persone che si sono fatte sempre rispettare con la forza dell'onestà del loro lavoro e della sudore del loro fronte. Quali sono i settori più ambiti secondo lei? Sicuramente l'agroalimentare è un settore questo graditissimo al palato tedesco e sicuramente che ci vede tra i protagonisti rispetto a tutti gli altri paesi europei. Vino e proprio tutti i nostri prodotti rappresentano la punta di forza. Proprio questo da un'ora lo sta ripetendo la segretaria generale della Camera di Commercio italiana a Berlino dicendo che sicuramente con questi prodotti sfonderemo il mercato berlinese.